Ricorrono, era ieri l'anniversario, gli 11 anni del terremoto dell'Aquila. Era il 6 aprile del 2009, un terremoto devastante, ha distrutto il capoluogo dell'Abruzzo, ha distrutto moltissimi paesi, moltissime zone. Noi questa sera vogliamo raccontarvi l'Aquila come maestra di speranza però, perché questo è un ricordo che non si cancella ma che anzi oggi ci unisce in un fronte comune. Siamo di fronte a una grande, nuova, terribile sfida per il mondo intero. E' proprio la forza di questo territorio che non si è arreso, che ha saputo reagire, progettare, costruire, insegna la via per tornare alla vita. E noi vogliamo parlarne insieme ad Alessandra Faggian che è in collegamento con noi. Ciao Alessandra, bentornata Geo. Grazie di avermi chiesto di tornare. E ci mancherebbe, economista e prorettrice del Gran Sasso Science Institute, una scuola internazionale di eccellenza nata proprio dalle macerie per la rinascita dell'Aquila. Allora, tu hai lasciato l'America, una carriera oltreoceano proprio, per avviare in questa città un progetto di rinascita basato sull'economia della cultura. Ci racconti questa bella storia, Alessandra? Certo. Io, come hai detto, sono stata 17 anni all'estero, prima in Inghilterra, poi in America. Mi ricordo, il 2009 ero in America e ho visto queste immagini del terremoto dell'Aquila, tremendo, devastante. E penso che un po' il seme del mio ritorno in Italia si sia piantato allora, perché poi, tre anni dopo, sono arrivata all'Aquila per fare un rapporto dell'Ocse insieme a un gruppo di esperti internazionali, parecchi dei quali, fra l'altro, erano italiani come me all'estero. In 2012, appunto, questo rapporto chiedeva un po' all'Ocse di tracciare una strada per la rinascita dell'Aquila, della regione Abruzzo, e da lì è partito questo progetto di vedere nell'Aquila una città della conoscenza. In realtà c'era già stato un gruppo di visionari locali che aveva un po' identificato questa come una possibile strada per la rinascita dell'Aquila. L'Ocse ha caldamente supportato, diciamo, questo progetto e così è nato il Grand Salso Science Institute, che è appunto questa scuola dottorale, nel quale dopo anni, io casualmente, poi sono tornata a lavorare nel 2017. Senti, formate fisici, matematici, economisti, e l'Aquila è diventata come una risorsa per tutto il nostro paese. Oggi che la scienza è chiamata a trovare le stesse soluzioni per l'emergenza, il vostro istituto coordina la progettazione di un prototipo di ventilatore meccanico per pazienti affetti dal coronavirus, dal Covid-19. Vero? Di che si tratta? Sì, esatto, hai detto bene. Uno dei miei colleghi fisici, professore di Physica al Grand Salso Science Institute, Cristiano Galbiati, coordina questo progetto, il cui scopo è quello di creare un ventilatore meccanico che sia di facile costruzione. Quindi, infatti, adesso, come vedete in questo progetto, si tratta di un ventilatore che potrebbe essere prodotto, ovviamente, un ventilatore sicuro che ha tutte le funzioni dei ventilatori tradizionali, ma che può essere costruito con costi più moderati e quindi essere prodotto anche in larga scala, che è quello che adesso un po' manca. Certo. E questo progetto è un progetto che raggruppa non solamente ricercatori del Grand Salso Science Institute, ma anche altre università italiane, come ad esempio Milano Vicocca, e anche ricercatori americani e canadesi, perché questo ormai è un problema che purtroppo ha tutto il mondo, questa carenza di ventilatori. Alessandra, voi lavorate anche sul rilancio delle aree interne del nostro paese a rischio di spopolamento, no? Quali strategie sono risultate vincenti per dare slancio a queste aree sino adesso e che cosa cambia oggi con l'epidemia? Esatto. Noi, le aree interne sono un po' la nostra specializzazione. Abbiamo scelto di focalizzarci proprio non sulle aree urbane centrali, ma sulle aree periferiche. Abbiamo iniziato una collaborazione anni fa con il Comitato Tecnico della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che si occupa proprio della rivitalizzazione di queste aree. Queste aree soffrono di, ovviamente, problemi che sappiamo tutti, spopolamento, invecchiamento, e poi una crisi economica che è di lungo periodo e prevasiva. La Strategia Nazionale delle Aree Interne cercava in pratica di aiutare queste aree da un lato razionalizzando e fornendo servizi essenziali, come ad esempio le scuole, gli ospedali, i trasporti, e dall'altra anche di chiedere a queste aree di identificare una strategia per il loro sviluppo economico futuro. E le strade che quasi tutte le aree hanno scelto si rifanno al turismo, alla cultura e anche alle filiere agroalimentari, che sono dei punti di forza di queste aree più periferiche. Il problema è che adesso con l'epidemia c'è come una specie di stop, è una crisi in questo momento, proprio di questi settori che sono i più colpiti in assoluto. Esatto, allora il problema con le aree periferiche adesso è il cosiddetto gap digitale, questo divario digitale che c'è, per cui queste aree rischiano di rimanere un po' indietro, perché tecnologicamente sono un po' meno avanzato diciamo delle aree centrali. Quindi quello che cambierà sicuramente col coronavirus purtroppo è che queste aree rischiano, se non si mettono un po' più al passo coi tempi, di rimanere indietro. Però io sono ottimista, perché ho già visto, l'Aquila è una città intermedia, non è un'area periferica, però ho già visto che ci sono comunque delle piccole imprese che hanno già trovato delle soluzioni innovative. Il piccolo mercatino che magari prima ha la consegna a domicilio che ora si è già attrezzato online per fare la consegna a domicilio, ad esempio. Quindi bisognerà puntare sul cercare di informatizzare queste aree. Ecco, il capitale umano, la creatività nello sviluppo economico della resilienza territoriale è anche un altro obiettivo, no? Della tua attività di ricerca. Per la ripresa economica, quali strade potranno percorrere quelli che hanno dovuto fermare le loro imprese? In generale nel nostro paese, dico perché stiamo di fronte a veramente un fermo economico che avrà dei risvolti drammatici, sarà la cosa più complicata far ripartire l'economia e aiutare tante persone a non chiudere o a riprendersi. Su cosa devono puntare? Assolutamente. Io da tanti anni mi occupo di capitale umano, quindi delle conoscenze delle persone. Reputo che comunque, al di là degli investimenti che si possono fare in infrastrutture, eccetera, la cosa più importante sia veramente il capitale umano, siano veramente le persone. Bisognerà essere innovativi, bisognerà essere anche imprenditoriali. Non nego che all'inizio le piccole e medie imprese avranno bisogno comunque di un aiuto economico, finanziario, perché ovviamente ci sarà una grande crisi che seguirà a questo disastro sanitario. Poi, quello sul quale bisogna puntare sono sempre gli stessi ingredienti che valgono anche in tempi normali, che sono i giovani, le conoscenze, l'imprenditorialità, soprattutto giovanile, ed essere innovativi, cercare di fare le cose in un modo un po' diverso, adattandosi a un mondo che inevitabilmente cambierà, sta cambiando. Io credo che quello che ci sta capitando è qualcosa che cambierà le vite di ciascuno di noi. Non torneranno più a essere identiche a prima, no? Perché in fondo abbiamo tutti aperto delle porte verso qualche cosa che non conoscevamo. Sì, siamo stati forzati. Siamo stati forzati, ad esempio, anche le persone che hanno una certa età hanno dovuto cominciare a capire un po' anche le nuove tecnologie, come funziona internet, come si può fare la spesa online. Hanno capito che non è più una scelta, ma diventa una necessità per non rimanere indietro. Certo, il divario digitale va colmato, sia per quello che riguarda la scuola, gli studenti, perché ancora oggi ci sono troppi studenti che non hanno accesso al digitale, troppe famiglie che non sono indietro e quindi bisogna assolutamente colmare, credo che ci sono già delle iniziative a questo proposito. E poi, come sottolineavi prima, il divario tra le aree più interne, minori, meno in questo momento sviluppate, va assolutamente colmato. Sì, poi a me chiedono spesso, adesso nelle interviste, anche se la gente a seguito del coronavirus deciderà di lasciare le grandi città perché c'è la paura del contagio. E' un grande tema, perché uno in questo momento capisce come avere un pezzo di terra, vivere a contatto con la natura, sia una risorsa straordinaria. Invece vivere in una città, in un appartamento di una grande città, significa essere in trappola. Questa è una lezione che stiamo imparando tutti. E cosa rispondi quando ti fanno questa domanda? Io penso che, al di là del fatto che le grandi città soffrano della mancanza di spazio e quindi ovviamente fare la quarantena, se si ha un giardino, è molto meglio che farlo in un appartamento chiuso senza avere la possibilità di uscire. Io penso che non si possa prevedere adesso un'immigrazione di massa dalle città per andare nelle aree più periferiche, perché di fatto è vero che il contagio va più velocemente dove ci sono delle aree più dense, però è anche vero che in fondo è un po' casuale dove va a colpire. Quindi ci sono purtroppo dei paesini che sono stati colpiti e quando vengono colpiti è veramente un disastro, perché la popolazione è mediamente più anziana e poi appunto in futuro avranno comunque questo problema di cercare di colmare questo divario digitale che c'è. Certo. Comunque Alessandra, tu sei la prova che si può andare avanti e che bisogna sempre rilanciarsi e guardare in avanti e non aver paura delle novità. Grazie ad Alessandra Faggian, prolettrice del Gran Sasso Science Institute. È stato un piacere di trovarti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti